Tutti quanti siamo dotati di risorse che ci permettono di realizzare ciò che abbiamo sognato e anche di più. C'è una barriera che può essere rotta da una decisione che porterà gioia o dolore, ricchezza o povertà, lunga vita o morte prematura. Io ti sfido a prendere una decisione in questo momento, oggi, che potrebbe miseramente cambiare o migliorare la qualità della tua vita. Fai qualcosa che rimandavi da sempre, munisciti di nuovi strumenti, tratta le persone con rispetto e con passione, chiamo qualcuno con cui non parli da anni. Sappi che le due decisioni hanno delle conseguenze. Anche non prendere nessuna decisione è decidere di non decidere. Quali decisioni hai preso o non hai preso che hanno avuto una forte influenza sulla tua vita?